Siamo contentissimi di tornare in campo, di certo questo mese di arresto forzato ci è servito per recuperare alcuni elementi, mi riferisco ad esempio a Massimo Pollidore o a Santerusso che sono giocatori fondamentali per la nostra squadra e che avevano avuto qualche acciacco. Di certo domenica è una partita fondamentale, la prima di undici finali in realtà che spero ci portino alla vittoria del campionato. Antonio Palladino, vicepresidente del Barletta, non ha dubbi la squadra bianco-rossa è pronta per la ripartenza, prima tappa a Sansevero. Una trasferta difficile su un campo ostico contro una squadra che sta ben figurando in campionato. Colgo l'occasione per fare un appello alla nostra tifoseria, a seguirci in massa, ad essere come al solito il dodicesimo uomo in campo e ad aiutarci a portare a casa questi tre punti. Primo posto in classifica, più tre sul corato secondo, finale di Coppa Italia di Lettanti contro il Martina già in tasca, merita voti alti il Barletta sin qui. Altamente positivo, penso che chiunque avrebbe firmato per vedere la nostra squadra al primo posto con tre punti di vantaggio dalla seconda. Al di là di qualche piccolo stop nelle ultime partite, penso che la squadra abbia avuto un andamento fantastico. La finale di Coppa è un traguardo mai toccato nella storia del club per la partita di ritorno fissata al momento il 17 febbraio a Canosa. Resta viva la possibilità di giocare ad Andria alle 20 e 30. Certamente il nostro obiettivo è quello di portare quanta più gente allo stadio. Purtroppo non avendo lo stadio di Barletta a disposizione stiamo valutando diverse ipotesi. Il discorso è che bisogna parlarne non solo con le varie amministrazioni comunali, con le società che normalmente utilizzano gli stadi, quindi la situazione non è semplicissima, stiamo valutando la soluzione migliore. Penso che nei prossimi giorni si possa dare una risposta definitiva a questa domanda. Ipotesi che restano flebili se si parla invece di calcio mercato in entrata. Io penso che al momento la squadra sia al completo, il nostro calcio mercato è completamente chiuso. Fa chiarezza Palladino anche quando parla dei giocatori in rosa per Cormio il rientro non è vicino mentre Pinto resta in stand by. Per quanto riguarda Cormio penso che sia prematuro pensare a un suo rientro in squadra perché il ragazzo sta recuperando da un infortunio serio. Per quanto riguarda Pinto il ragazzo al momento non sta partecipando agli allenamenti, vedremo nelle prossime settimane se farlo rientrare o meno. Paradosso, nell'anno del suo centenario il Barletta non ha ancora uno stadio. Il Cosimo Puttilli resta chiuso da maggio del 2015 e difficilmente il club avrà a disposizione l'impianto entro la fine della stagione. Penso che la società con i fatti abbia dimostrato di mettercela tutta. Soprattutto dopo la scorsa stagione che ha rappresentato una grossa delusione per tutti i tifosi oltre che per noi società. stiamo cercando di oltrepassare l'ostacolo e gli ostacoli ne abbiamo trovati tanti. Oltre il Covid noi abbiamo una zavorra che ci portiamo dietro ormai da sette anni che è quella dell'assenza dello stadio. Perciò la società ci crede. È un onore e un onere quello di rappresentare Barletta. Speriamo quest'anno di riuscirlo a fare nel migliore dei modi regalando alla nostra città, alla nostra tifoseria questa tanto desiderata promozione in Serie D.